Ferragosto impegnativo per le forze di soccorso che purtroppo hanno avuto a che fare con un incidente mortale in El Pago. E questo è il momento più nero di una giornata segnata da numerosi interventi in montagna e sulle strade. Il sinistro fatale è accaduto a Tambre e ha avuto come vittima Maurizio Casagrande di Vittorio Veneto, 44 anni triatleta della società Reaction Triathlon di Pordenone. L'uomo ha perso la vita nello scontro con una Fiat Punto intorno alle 9.30 del mattino lungo la provinciale 28. Stava percorrendo la strada in discesa in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto l'impatto con la vettura che saliva. Incidente stradale anche a Valle di Cadore, un'auto è finita contro un'abitazione intorno alle 22.40. A bordo c'erano 5 persone, 4 di loro sono uscite dall'abitacolo solo dopo che i vigili del fuoco lo hanno squarciato. Mentre i feriti venivano portati in ospedale, la viabilità è stata deviata su strade secondarie. Sul posto vigili del fuoco Suem e Carabinieri. Per quanto riguarda gli interventi in montagna, un malore ha colpito un 36enne tedesco tra Forcella Ambrizola e Casera Prendera a San Vito. L'uomo è stato recuperato in elicottero e portato a Belluno per accertamenti. Malore anche per un 64enne padovano recuperato dal soccorso alpino della Val Fiorentina e della Guardia di Finanza tra Forcella Nuvolau e il Passo Giau in comune di Colle Santa Lucia. Sempre nel Lagordino, il soccorso alpino di Alleghe è intervenuto per una coppia di escursionisti 25 anni tedeschi in difficoltà. Scendendo dal lago del Coldai verso Alleghe, i due avevano perso la traccia finendo bloccati in un ghiaione vicino al Rudamoling.